Il 198, quest'anno è stato campione d'Italia con la primavera, lui si chiama Lorenzo? Ciao! Lorenzo! Sì, ciao! Ciao Lorenzo, ciao Lorenzo, grazie e benvenuto. E allora, attenzione, mettiti qui, proseguiamo, sentiti pure qui, sentiti pure qui, lo facciamo subito, subito, allora vieni. Allora, allora, ti dico subito, Roma, Totti, Cucchiaio, c'è una prova particolare. E allora, avviciniamo un attimo il cucchiaio, ci siamo? No, da qui. E allora, vediamo se sei in grado di fare canessolo con il pallone, col cucchiaio, col piede. No, ma anche così, in mano, quindi in radio. Ok, ci sei, uno, due, tre, attenzione. Il primo, no, vai, andiamo col secondo. Ci sei, uno, due, tre, niente da fare, ok, grazie, vai, siete qui, e adesso faccio poi una piccola intervista. Ci siamo, signori, lui è arrivato da poco, sarà probabilmente il portiere ufficiale della Roma, non si sa, ma è intanto arrivato con la grande carica. Signori, brasiliano, classe 1992, come si chiama, uno, due, tre, Ellison. Vai, 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 signori, facciamogli un applauso. Grande. Ciao, Ellison. Come sta, tutto bene? Bene. Bene, mamma mia, io parlo in spagnolo in tutto brasiliano. Allora, Ellison, anche per te. Ok, uno, ok? Cucchiaio. Uno, due, tre. Come sei? Cucchiaio in brasiliano. Come si dice cucchiaio in brasiliano? Cucchiaio. Jogar. Jogar. Jogar nel canastro. Vamos. Uno, due, tre. Mamma mia! Un altro. Vai.